E' stato trasferito oggi da Roma a Bologna, per poi essere inoltrato a Milano, un altro convoglio Meneghino, elettrotreno interoperabile per metropolitana di ATM, azienda a trasporti milanesi. Il trasferimento è stato curato dalla E6 E52-024, coadiuvata da due carri scudo. Il treno, costruito da Ansaldo Breda e Firema, è composto di 6 casse per una lunghezza complessiva di oltre 100 metri ed ogni elemento è dotato di 8 porte che permettono l'accesso ad un ambiente dove possono trovare posto 102 persone a sedere e 526 in piedi. La fornitura complessiva è di 40 convogli in grado di raggiungere una velocità massima di 90 km orari, che sono in consegna dal 2009.